una banconota da 20 euro tenterò di far diventare questa banconota da 20 euro una banconota più piccola questi 20 euro stanno per diventare in questo momento più piccoli questi 20 euro stanno per il momento diventando più piccoli un pochettino più grandi poi più grandi fino a diventare una banconota da 50 euro da 20 a 50 attenzione però a questa banconota da 50 euro perché sta diventando un pochettino più piccola sta diventando più piccola questa banconota da 50 euro sta diventando un pochettino più piccola più piccola poi sta diventando ulteriormente più piccola più piccola più piccola fino a tornare ad essere una normale banconota da 20 euro